Nessuno sa quando nella sua vita arriva il grande giorno. Lui arriva all'improvviso. E tu ti volti indietro e ti rendi conto che niente sarà più come prima. Ma te ne accorgerai, eh? Quando lo vivrai? Ma tu sai quando sarà il mio? Sì, è vero. Ma tu non sei come tutti gli altri. Tu sei Matilde. E quando sarò pronta? Presto. No. 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 Grazie a tutti.